Appuntamenti culturali, visite guidate e aperture straordinarie. Napoli si prepara ad accogliere a braccia aperte residenti e turisti nel lungo fine settimana di festività pasquali. In Campania le associazioni stimano l'arrivo di oltre 200.000 persone per il weekend di Pasqua, ad attenderle non solo chiese, musei e monumenti, ma anche poli tecnico-scientifici del territorio. Tra le principali attrattive turistiche per le giornate di domenica e lunedì, impossibile non pensare al lungomare Caracciolo, come anche al Bosco di Capodimonte, nel cui museo è ancora possibile visitare la mostra agli spagnoli a Napoli sul rinascimento meridionale. Aperte ai visitatori dalle 10 alle 18 anche la chiesa di San Giovanni a Carbonara e il complesso di San Domenico Maggiore. Alman, in aggiunta alle esposizioni presenti in pianta stabile tra le mura del museo, vale la pena ammirare quella appena inaugurata dedicata a Picasso nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. Aperte nei giorni di Pasqua e Pasquetta, anche le catacombe di San Gennaro e San Gaudioso, visitabili dalle 10 alle 17 accompagnati da una guida. Porte aperte dalle 10 alle 13 anche per la Basilica di San Severo, al cui interno si può ammirare Il Figlio Velato, scultura dell'artista di Anagni e Iago, ispirata al Cresto Velato di Giuseppe San Martino, conservato lì. Meta già molto gettonata da tantissimi, specialmente tra i più giovani, sarà invasa dai turisti anche la piscina Mirabilis di Bacoli. Il successo della serie TV Mare e Fuori, che ha visto girare lì alcune scene, ha trasformato il complesso monumentale di epoca romana in un vero e proprio luogo di culto per i fan della fiction televisiva.